Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione che esprime solidarietà allo Stato di Israele e alle popolazioni colpite dall'attacco di Hamas. L'atto di indirizzo auspica l'apertura di corridoi umanitari per la messa in sicurezza della popolazione civile coinvolta. Inoltre, la mozione fa riferimento agli accordi di Abramo stipulati tra Israele, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti nel 2020 ed auspica che questi possano contribuire a ridurre le tensioni nella regione e a favorire il proseguimento dei negoziati di pace. Ho voluto far partire i lavori del Consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbaria che il gruppo terroristico di Hamas ha scadenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. E allora in aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Le immagini di violenza che arrivano ogni giorno da quei territori devono terminare il prima possibile. Serve un impegno dell'Europa, un impegno forte, l'Europa può giocare un ruolo fondamentale per fermare tutto quello che sta accadendo ed esprimiamo anche ferma condanna verso l'azione terroristica di Hamas. Sì ritengo sia un gran risultato, un bel segnale, la voce che arriva dal Consiglio regionale della Toscana di una condanna unanime nei confronti dell'attentato veramente vile e crudele che Hamas ha sferrato nei confronti delle popolazioni israeliane e anche di solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte. Non è scontato che le maggioranze e le opposizioni si mettano d'accordo sulle cose. In questo caso noi abbiamo lavorato perché questo avvenisse partendo anche da un documento che noi avevamo presentato e credo che la richiesta che è lì contenuta di uno sforzo che deve riprendere dal punto di vista diplomatico e che veda anche l'Europa come protagonista per far cessare le armi, per aprire corridoi umanitari nei confronti della popolazione di Gaza che ora si trova nelle condizioni di dover sfuggire magari anche ad ulteriori azioni di guerra. Tutto questo ha messo d'accordo maggioranza e opposizione e credo che sia una richiesta che speriamo sia veramente ascoltata dal mondo politico, dal mondo politico nazionale ma anche internazionale perché da qui una terra di grande civiltà abbiamo cercato di unire solidarietà, richiesta di umanità e anche la cessazione delle armi perché riprenda quel cammino e quel progetto di due popoli in due stati che possono vivere pacificamente. È una drammatica situazione, è una bufera politica che si riverbererà anche a livello economico, conseguentemente io spero che possa esserci una risoluzione anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione russia e ucraina per cui credo che ci stiamo avviluppando, avviluppando noi come genere umano, su una situazione che invece dovrebbe poter vedere la salvaguardia dei paesi assolutamente unica, quindi ognuno che sia padrone nel proprio stato. Sì, indubbiamente siamo in una situazione in cui l'escalation della violenza è stata portata all'estremo con centinaia di persone che oggi sono state addirittura prese in ostaggio se non spettacoli di bambini addirittura decapitati. È una situazione estremamente grave, una situazione che avrà e sicuramente ne dovremo affrontare tutti quanti le conseguenze anche imprevedibili sotto il punto di vista umanitario ma anche sotto il profilo politico. Sembra qualcosa di distante da noi in realtà quanto accade in Medio Oriente, quanto accade ancora in Ucraina sono vicende che hanno e avranno dei risvolti importanti anche su quella che potrà essere la nostra quotidianità. Le situazioni di squilibrio a livello internazionale hanno delle conseguenze sul piano economico, sul piano sociale, pensiamo alla questione di immigrazione ma pensiamo anche più banalmente a quello che vuol dire il rincaro sulle materie prime, il rincaro sui carburanti. Noi stiamo combattendo in questi tre anni, prima con una pandemia, oggi con dei conflitti che appunto mettono a dura prova la tenuta economico sociale del sistema Europa, il nostro sistema valoriale e di conseguenza anche quello che potrà essere il margine di manovra sia a livello nazionale e sia a livello governativo anche perché tutte quelle che dovranno essere le prossime scelte di politica economica, di politica anche proprio sul piano sociale dovranno scontare un quadro internazionale assolutamente incerto e molto serio e complesso. È chiaro che anche l'istituzione regionale al pari di quello che ha fatto il Parlamento nazionale deve richiamare ad un'attività diplomatica intensa oltre a condannare naturalmente tutto quello che è la violenza ma naturalmente questo sembrerebbe quasi un atto dovuto, un atto che ha una sua finalità che si esaurisce in un'aula consigliare. In realtà il messaggio che vogliamo mandare è un messaggio importante, è un messaggio di sostegno, un messaggio che dalle istituzioni voglia appunto rimarcare che l'istituzione c'è, l'istituzione fa il suo dovere, l'istituzione ha ben presente che quello che ci dobbiamo trovare ad affrontare è un quadro assolutamente complesso che richiede scelte complesse e scelte serie. È bene che su questo i cittadini toscani sappiano che c'è la consapevolezza che dovremo affrontare altri periodi assolutamente difficili da qui ai prossimi anni ma che come istituzione dovremo fare assolutamente la nostra parte anche nel modo più pieno. Quindi ecco un atto che sembra avere una rilevanza, ripeto, più sul piano esterno invece lo ha per l'impatto che quello che sta accadendo nel mondo può avere e lo avrà e sicuramente lo ha già adesso anche sulle nostre comunità. È un atto importante e serve soprattutto a far capire che l'intento, il primo intento che deve essere portato avanti in questo momento è garantire alla popolazione civile in ermi la possibilità di mettersi in salvo. Con i corridoi umanitari abbiamo sentito purtroppo che l'Egitto questa mattina ha negato la possibilità di un corridoio umanitario per Gaza ma soprattutto per cercare di mettere in salvo tutte le persone in attesa della de-escalation che deve essere assolutamente portata avanti dalla comunità internazionale. La mozione in questo senso spinge l'Italia insieme all'Europa ad avere un ruolo forte per questo processo che deve portare finalmente a una pace dopo decenni in cui quella zona del nostro pianeta non riesce a trovarla e credo che sia importante soprattutto anche nell'ottica della cooperazione internazionale. In Toscana purtroppo non è come la vorremmo, facciamo molta poca attività di cooperazione internazionale ma sulla cooperazione sanitaria abbiamo ancora dei passaggi che possono essere fatti. Io credo che il prossimo auspicio che dovremo fare per la Regione e impegno sia quello di cercare di dare una mano sotto questo profilo per tutti quelli che hanno bisogno di assistenza sanitaria in quelle zone di guerra. Ma credo quanto sta succedendo è una sofferenza per ciascuno di noi, una sofferenza dal punto di vista umano, politico, vedere civili sgozzati, bambini uccisi, giovani che festeggiano, essere deportati, prigionieri uccisi è una tragedia di carattere umano. Secondo me l'opinione pubblica internazionale è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Mediorente e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro Governo. Serve una presa di posizione netta, di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima che comunque deve non uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due Stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis mi sembra non stia facendo nulla e questo è molto grave. Deve invece entrare in campo e giocare una partita per la diplomazia e per la pace. Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia regionale di Sanità con il voto favorevole di PD e Italia Viva, mentre Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle hanno espresso voto contrario. Il bilancio ammonta a 2.736 milioni di euro, con l'80% destinato alle spese per il personale, il 12% alla gestione di immobili e attrezzature e il 5% al funzionamento degli organi dell'Agenzia. Secondo l'atto, l'utile di esercizio di ARS, pari a 76.849 euro, sarà ripartito nel seguente modo. Il 20% sarà destinato a riserva legale per coprire eventuali perdite future, mentre l'80% sarà restituito alla regione. A questo proposito, su proposta della Commissione Sanità, l'Aula ha stabilito che quest'ultima somma sia restituita ad ARS, che dovrà usarla per effettuare una ricerca sull'uso della sanità privata non convenzionata da parte dei cittadini toscani. Sì, bilancio di ARS, come tutti gli anni, abbiamo approvato il bilancio di ARS 2022, quindi quello consuntivo. È un bilancio che è in linea con quelli che sono gli impegni anche di contenimento della spesa. Ne sappiamo il finanziamento di ARS ormai da tanti anni è lo stesso e dall'anno scorso è stato anche un po' contratto. Questo ARS è stato capace di farlo senza ridurre l'attività di ricerca che è stata alta anche durante quest'anno e quindi insomma un risultato comunque importante. Il bilancio presenta un avanzo d'amministrazione che come prevede le leggi noi abbiamo la possibilità o di rimandarlo nel bilancio generale della regione o di mantenerlo ad ARS vincolandolo ad un lavoro specifico e abbiamo chiesto appunto che ARS faccia un lavoro sull'andamento della spesa privata da parte dei toscani in sanità non convenzionata anche perché c'era uno studio ante covid e quindi questo poi ci può permettere di fare un benchmark dell'evoluzione da prima del covid ad ora su quello che spendono i toscani in sanità privata e sappiamo essere un elemento di criticità insomma di tutto il paese e quindi anche della Toscana. Sì allora il bilancio di ARS è un bilancio ineccepibile anzi forse troppo perché avanzano 70 mila euro quindi noi ovviamente quando c'è una società che funziona dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500 3 milioni e 600 quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue competenze. Credo che debba essere rivista un pochino la funzione di ARS e questo compete al Consiglio regionale come ho detto in aula se nel 2025 vinceremo noi forse cambierà anche questo. Sul bilancio dell'Ars il parere è un parere come dire negativo ma è un parere negativo perché noi dobbiamo interrogarci su quello che dovrà essere il futuro dell'agenzia regionale di sanità. Oggi noi sappiamo troppo poco di quello che viene fatto, le agenzie regionali svolgono un'attività preziosa di supporto anche per le attività della Giunta e anche indirettamente del Consiglio. Oggi però sul fronte sanitario dobbiamo diciamo pretendere di più. Noi siamo in una fase in cui molto spesso si legano le risorse al sistema sanitario a richieste che non hanno però come adeguato presupposto la programmazione, cioè un'analisi preliminare di quelli che sono gli effettivi bisogni del sistema sanitario regionale che molto spesso appunto si rischiano di ridursi a semplici richieste di allungare più soldi e più risorse da parte del Governo nazionale senza però legare ripeto a programmazione ed efficienza. Questo è un ragionamento che come dire anche qui può sembrare quasi scontato, in realtà noi non abbiamo un sistema che oggi garantisca un monitoraggio attento sull'impiego delle risorse e l'agenzia regionale di sanità non può ridursi a svolgere il proprio ruolo di semplice monitoraggio, di semplice diciamo raccordo quando invece potremmo sperare e auspicare di avere dei soggetti delle agenzie regionali che svolgano un ruolo molto più attivo, ripeto proprio in termini di programmazione. Quindi come dire il tema del risorso è un tema che c'è nel sistema sanitario, il tema invece che viene molto spesso sorvolato su cui spesso non si dibatte è quello della programmazione. Non stupiamoci se molto spesso ancora le liste di attesa non riescono ad essere smaltite nel nostro sistema sanitario perché questo dipende dal nostro punto di vista da una totale mancanza di programmazione rispetto ai fabbisogni. Questo è il tema sulla questione sanitaria. L'Arts sta dimostrando di essere una società in equilibrio, all'Arts va chiesto sempre qualcosa di più. Lo Stato della salute toscana non è in salute, questo è un dato di fatto oggettivo, serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana. Su questo noi stiamo lavorando per incidere, penso, sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale. C'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi e quindi bisogna migliorare. C'è una difficoltà economica a far quadrare i conti, le questioni sono aperte e quindi credo che l'Arts possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte.